Salve a tutti ragazzi, io sono Vrexo e vi do il benvenuto a questo nuovo video e vi chiedo scusa se non l'ho fatto uscire prima Ho avuto un po' da fare e poi non so se avete visto il meteo sulla Toscana ultimamente, non è che sia stato troppo clemente Recentemente sono stato taggato su Facebook su un articolo riguardante la EA Che poi è stato condiviso da molti e le stesse che l'hanno condiviso l'hanno persino commentato con il karma esiste Vediamo, io ho l'articolo qua davanti, adesso andiamo a leggere cosa dice Electronic Arts non sembra passarsela molto bene nelle ultime settimane Dopo il lancio di Star Wars Battlefront 2 e il vespaio di polemiche generato dalle microtransazioni Infatti la compagnia ha perso oltre 3 miliardi di dollari in azioni Nel mese di novembre le azioni di EA sono diminuite dell'8,5% provocando una perdita del 3.1 miliardi di dollari Secondo alcuni analisti questo declino andrebbe attribuito alle polemiche generate da Star Wars Battlefront 2 con le microtransazioni Senza contare che il gioco stesso sta registrando numeri meno impressionanti rispetto al capitolo precedente Nel Regno Unito ha venduto il 60% delle copie a retail in meno Nell'attesa che il gruppo NPD diffonde dati di vendita americani L'analista Drew Krum, 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 questo qua insomma Fa notare come il titolo non abbia registrato vendite particolarmente entusiasmanti Durante il weekend del Black Friday 2017 Infine l'analista Doug Kruz, penso si pronunce così Ha osservato che l'industria dei videogiochi avrebbe bisogno di una serie di standard Per trovare la dimensione giusta delle microtransazioni Questo è giustissimo In modo da evitare che i giocatori continuino a vederle in cattiva luce Allora Impressioni mie su quello che abbiamo appena letto EA ha in mano tantissimi titoli di testa di molte software house Ha collaborato per esempio Vabbè sapete che io sono fan di Mass Effect e quindi Electronic Arts ha avuto a che fare anche con Mass Effect Ma con tantissimi altri giochi, non solo Mass Effect ovviamente E sono tanti titoli che poi sono diventati famosi Sono diventati... sono molto chiacchierati Sono parlati dalla community internazionale, italiana, insomma da tutti EA viene anche messa al centro di certe polemiche che la vede colpevole di aver dato delle scadenze troppo brevi a certe software house Oppure di essere troppo sul collo a queste software house Per esempio, dato che si parla di analisti qua Ci sono all'interno i software house Non c'è soltanto quello che scrive la storia Quello che crea il comparto tecnico, il comparto audio, il comparto del suono Insomma, ok Ma spendono anche molto denaro per le indagini di mercato Ovvero, vedere in quale punto dell'anno è meglio far uscire un gioco Qual è il periodo più significativo Magari c'è una festa di mezzo, vai, lo lanciamo là Insomma, questi analisti valutano il mercato, ok Molto semplicemente Perché se poi tu il tuo gioco lo fai uscire in un periodo sbagliato Mentre altre software house lo fanno uscire il loro gioco nel momento giusto Quello che hanno fatto loro potrebbe anche essere una schifezza E quello che hai fatto tu essere il gioco più bello del mondo Ma siccome l'hai fatto uscire nel momento sbagliato E l'industria proprio del gaming è spietata sulla pubblicità e tutto quanto Il tuo gioco poi alla fine non lo conosce nessuno Può essere bello quanto vuoi Quindi è una cosa molto delicata EA purtroppo sta troppo addosso alle software house Non gli dà respiro Siamo tutti d'accordo che è giusto dare un tempo limite Perché altrimenti questi giochi vengono rimandati all'infinito E quando poi alla fine escono siamo già nella nuova generazione Va benissimo dare delle limitazioni al tempo Però stare troppo pressanti su qualcuno che sta producendo un prodotto Che poi tu lo devi vendere Cioè alla EA non gliene frega niente Senti, questa è la scadenza Non me ne frega niente di quello che fai Taglia qualcosa ma qui deve uscire il gioco Altrimenti ti trovi qualcun altro che te lo pubblicizza E questo comporta un danno Ora cosa c'entra col discorso di Star Wars Battlefront 2 Ora ci arrivo Quella casa che ha fatto quel gioco Lo deve tagliare per farlo uscire prima E quella parte tagliata ci fa un DLC Lo fa a pagamento E la community poi si arrabbia Perché si chiede Per quale cavolo di motivo questo contenuto Lo devo pagare a parte Se non mi offre nulla di nuovo E tutto questo poteva essere incluso nel gioco base Poi vabbè qui si apre un'apparente gigantesca Però già c'è questo astio molto rilevante Verso la EA Perché lo sappiamo tutti come è fatta E tu al primo posto devi mettere un prodotto Che porta soldi Non i soldi prosciugando il prodotto Cioè non so se mi avete inteso Valve per esempio Quando ha creato Half-Life Ha creato un prodotto Il ricavato di quel prodotto Gli ha dato così tanto Che loro potrebbero vivere alle Bahamas Per sette vite Per esempio Ok? Mentre invece altre persone Preferiscono mettere al primo posto i soldi Come fa la EA Prosciugando i prodotti Se poi ci mettiamo anche il fatto Che tu lanci un gioco E hai una cattiva gestione Delle microtransazioni Che fossono micro Non è niente Ma quando sono Ottanta miliardi di persone Che fanno la stessa microtransazione Sono soldi Le microtransazioni Sono veramente una cosa bestiale Perché poi tanto micro Non sono Basti vedere in qualsiasi gioco In cui c'è uno shop Vai a vedere Un oggetto che costa sette centesimi Vai a vedere l'oggetto Che magari è una skin Un po' più ricercata Vai a vedere 90 euro Difatti l'articolo conclude Dicendo Che l'industria del videogioco Avrebbe bisogno Di una serie di standard Avrebbe bisogno Di uno standard Per le microtransazioni Almeno abbiamo una linea Da seguire E non che ognuno Fa come cavolo vuole Sotto questo aspetto Io le do perfettamente La ragione Purtroppo L'industria dei videogiochi Non ha Uno standard Per le microtransazioni Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate Con un commento qua sotto Io la considero La mia vendetta personale Per essere stata Troppo opprimente Con la Bioware Ditemi voi Che cosa ne pensate Lasciatemi un like E noi ci becchiamo Al prossimo video